vuol dire di guardare a lui e seguirlo ciò che ci indica ciò che devo fare se lo segui fai quello che dice lui e quando nel momento in cui ci sentiamo persi possiamo chiedere a lui la strada giusta la via che devo fare percorrere che lui ci dà la direzione segui il vangelo quello che dice lui la verità nel senso che tutto quello che lui indica è la verità perché devo vivere sempre nella verità che è tutto nell'insieme delle cose del mondo di tutto praticamente la vita perché devo dare la vita anche per lui ed è l'essenziale la vita dobbiamo ascoltare lui per me per me è lui e la vita perché lui stesso è venuto se donato in favore nostro è una luce per me è tutto anche se le cose vanno sono stato la colpa non è mia senza tanto di Gesù che ho vinto bene così si o no? si o no?